Allora, qui c'è un unico tastino che si usa per accendere la pistola e per cambiare velocità. Non c'è nessun indicatore di batteria né nessun'altra cosa. E' così semplice. Si accende tenendo premuto per circa 3 secondi questo tasto. Vediamo. Qui si illumina di blu e adesso è in funzione. Cambiamo velocità. 1, cioè questa è la velocità 2, velocità 3 e di nuovo velocità 1. Si spegne tenendo premuto il tasto per circa un secondo. Ah, qua come si cambiano le testine. Si svita. Mettiamo questa. Si avvita. Ok. E si fa di partire.